benvenuti benvenuti cari amici siamo ubi di questo nuovo video naturalmente come sempre vi ricordo di distruggere il bottone like, iscrivervi il canale, iscrivervi anche il canale telegram oggi andiamo a parlare di bitcoin, ethereum, ok dex in particolare dxdy, uniswap, sushi, tococrypto e infine anche cardano e coti per cui iniziamo subito da bitcoin che cosa sta succedendo sostanzialmente diciamo che rispetto a ieri non è avvenuto niente di tale perché siamo al momento a 42 mila dollari avevamo anche preso i 44 mila dollari ora sostanzialmente cosa sta facendo bitcoin diciamo che sta lateralizzando all'interno dell'area 40 mila barra 44 mila dollari cosa mi aspetto potenzialmente ok dal mio punto di vista potremmo lateralizzare ancora per un po di tempo potenzialmente fino ai primi di ottobre e poi successivamente secondo me abbiamo bisogno di un forte movimento che potrebbe venire o a rialzo o naturalmente a ribasso dal mio punto di vista ci aspetta ancora una grande burran che secondo me si estenderà ok almeno fino a dicembre questa è un po' la mia idea ma potrebbe arrivare anche benoiter perché abbiamo visto come in passato le burran sostanzialmente si sono estese ora andiamo a vedere quelle che sono le principali notizie perché pensate la più grande mining pool su ethereum in particolare la seconda ha cessato che le sue operazioni in particolare questa mining pool era stata lanciata in cina nel 2018 il suo nome spark pool e pensate controlla più del 22 per cento che dell'hasher rate di ethereum e quindi potenzialmente questa non è una bella notizia ok per quanto riguarda ethereum però se andiamo a considerare il passaggio da proof of work a proof of stake che sta facendo ethereum potenzialmente un giorno che non potrebbe diciamo subire alcun danneggiamento se andiamo a vedere al momento anche quella che l'azione di ethereum siamo a 2900 dollari quindi al momento diciamo sta tenendo perfettamente ok come vedete in trend line ascendente di conseguenza secondo me avendo avuto la notizia del fad della cina poi questa notizia della più grande mining pool su ethereum che ha finito i cessare superazioni ed ethereum ok sta tenendo egregiamente un prezzo di 3000 dollari secondo me non appena ok questa fad diciamo se ne andrà per me ethereum è fortemente bullish ok vi ricordo anche quelle che sono le previsioni di raoul pale per quanto riguarda ethereum e per cui considerate tutti questi fattori naturalmente non sono nei consigli finanziari nei consigli trading andiamo anche a vedere ethereum contro bitcoin perché ok la forza di ethereum è fortissima ok in questo momento e lo stiamo vedendo anche qua da trend line ethereum è perfettamente in linea potrebbe anche andare a prendere il 0.06 e 5 però potenzialmente secondo me ethereum è destinato sia a fare oltamai per quanto riguarda il suo stesso prezzo sia per quanto riguarda nei confronti di bitcoin ora concentriamoci sui dex ok perché sassal su twitter ci dice di ydx è un ethereum layer 2 ok in particolare un dex è avuto pensate più volumi rispetto a coinbase questo è avvenuto il 27 di settembre in particolare se andiamo a vedere questa notizia possiamo vedere come di ydx abbia superato per volumi proprio coinbase questa notizia molto molto importante perché questo è avvenuto in seguito ok al fad cinese quindi ora che cosa mi fa pensare questa cosa qui potenzialmente i cinesi si stanno muovendo dai checks verso i dex sempre più secondo me la risposta è sì e ve la darò anche a giustificare ok poi in seguito è sorprendente anche questo tweet perché pensate antonio giuliano ben cinque anni fa ok decide di lasciare coinbase e di fondare di ydx e diciamo che oggi il buon antonio diciamo penso sia molto ma molto felice ok vorrei darvi giusto una piccola panoramica di quello che di ydx a circa un miliardo che di capitalizzazione quindi molto piccolo se confrontato ai grandi checks binance e così via naturalmente ritengo che anche l'interno i dex ne sopravviveranno pochi però se andiamo a vedere quella che sta dall'azione ok di ydx al momento ok si sta riaffermando verso uno volta mai quindi molto ma molto interessante secondo me come servizio e anche come piattaforma decentralizzata in particolare questa è la sua piattaforma quindi vi connettete questo è il suo grafico come vedete manca poco l'eulta mai che di 22.82 dollari al momento siamo a 20 dollari ora andiamo a vedere le altre principali dex perché pensate uniswap dopo il band a parte la cina registra un più 20 per cento quindi sostanzialmente gli exchange decentralizzati stanno avendo una forte ascesa in questo momento l'abbiamo visto anche su one inch proprio in particolare uniswap e su siswap hanno registrato il 22 per cento pensate in una sola giornata in ultime 24 ore e l'altro il 18 per cento quindi potenzialmente potremmo vedere anche una burran dei dex andiamo a vederci questa che le azioni di uniswap perché al momento siamo a 24 dollari e proprio nella giornata ieri addirittura abbiamo preso i 25 dollari quindi siamo passati da 17 dollari a 25 dollari pensate in due giorni per quanto riguarda l'eulta mai diciamo di uniswap è di 45 dollari però sappiamo come questa coin è fortemente volatile aveva poi preso i 13 dollari quindi di conseguenza ok regolatevi però potrebbe che essere un'ottimaria nel caso uniswap dovesse sempre avere un maggior numero di utenti diciamo la stessa cosa riguarda anche sushi che è passato sostanzialmente da 8 dollari fino a 12 dollari pensate nel giro di due giorni quindi ha fatto addirittura un più 50 per cento ora non siamo all'interno di questa 3 line scendente però come sappiamo questa coin è fortemente volatile anche qui siamo passati da 23 dollari a 5 dollari addirittura quindi pensate alla volatilità che ha sushi e di conseguenza secondo me vanno sfruttate ok queste occasioni quando le si vedono avete una notizia importante quella che riguarda binance perché pensate hanno tolto alcuni servizi nei confronti degli utenti di singapore ora come noi sappiamo la malesia è uno dei principali marcati delle cripto più in particolare non potranno pensate acquistare cripto e nemmeno che scambiare quindi per fiat quindi potenzialmente dove potrebbero andare questi utenti ok me lo sono chiesto e secondo me potrebbero andare su tocco cripto questa un po' la media naturalmente non sono nei corsi finanziari nei corsi trading anche perché tocco è fortemente in discesa ha avuto un'olta mai a 5 dollari e ora siamo praticamente a un dollaro e 70 però questo è un exchange malesiano che addirittura ha listato anche su binance e quindi potenzialmente ok questi utenti potrebbero fare un passaggio nei confronti di tocco altra notizia molto importante è quella da parte di charles oskinson perché ha deciso di donare pensate 20 milioni di dollari all'università del canergy mellon ora questa azione filantropica dal mio punto di vista ha una funzione innanzitutto dal maggiore risvolto a charles oskinson e di conseguenza cardano ma anche a dare a ricerca lo che quelli che sono i migliori ricercatori in ambito matematico economico e quindi ampliare quella che è la block chain di cardano se andiamo a vedere effettivamente quello che è il prezzo di cardano ok è in linea con questa trend line ascendente al momento siamo a 2 dollari e 12 quindi che cosa mi aspetto sostanzialmente da cardano secondo me potrebbe anche andare a fare un touch and go sui 2 dollari 207 e successivamente prenderà andare su se bitcoin ok confermerà quella che la sua buona altra notizia importante quella che riguarda coti non so se la conoscete perché sostanzialmente hanno deciso di dar vita a una stable coin algoritmica su cardano e questa stable coin sostanzialmente permetterà ok agli utenti sia di creare delle monete sia di bruciarne quindi attenzione a coti che da parte del stesso charles oskinson è uno che dei principali progetti ok su cui ruota il sistema di cardano e secondo charles oskinson proprio l'utilizzo che di questa stable coin potrebbe andare ok ad aiutare uno dei principali problemi cripto valute che proprio la volatilità ora andiamo a vederci un attimo coti e quella che la situazione perché abbiamo una market cap di 500 milioni quindi piccolina ma guardate da dove partiva coti ad esempio nel 2020 in particolare aprile stava 1 bar a due centesimi oggi pensate siamo a 60 centesimi quindi coti è veramente avuto una crescita davvero incredibile ultima notizia è quella che riguarda il tajikistan perché pensate hanno deciso di utilizzare in particolare phantom all'interno del loro protocollo quindi potenzialmente si sta configurando proprio una collaborazione con phantom e in particolare diciamo loro vogliono dare vita ad una piattaforma che verrà utilizzata dal governo del tajikistan proprio per dar vita addirittura ad una valuta digitale quindi attenzione perché sempre di più la block chain sta entrando in uso all'interno del mondo cripto naturalmente vi ricordo anche i servizi che offro io se volete una lezione individuale di 30 minuti il costo è di 25 euro e in più potete abbonarvi sia al gruppo elite se volete con un costo di 50 euro è il gruppo premium al costo di 24 euro per cui vi ricordo di distruggere il botone di like di iscrivervi al canale e ci rivediamo presto